Pregare, ringraziare, rappresentare la sua religione e rappresentare i polideisti, allora con 22 Dei, un creatore, un padrone della terra e anche la morte. Allora per sopravvivere a un ciclo di più dovevano fare tutte queste rite, l'autosacrificio umano nell'anno 600 d.C., però prima di salire a pregare e fare arrivare la piozza, andiamo a prendere un viaggio in Centro America per prendere tutto lo che abbiamo in Yucatán, come la giada, la collezione in Guatemala, la ufidiana nel centro del Messico.